Amici di Naturalmente Viaggiando, vi ritrovate a questa ennesima puntata, siamo qui con Jack, lo squartatore, detto Nicolas Costanzo, la sua dolce metà e il bonbon suizzo from Padova. Stiamo per affrontare la ferrata Angiolino, siamo tra la provincia di Como, il canton Ticino, Monte Generoso, 1700 metri sul livello dell'oceano e niente, a dopo. Il rago di Lugano che ti sorride è conquistato. Guardali che belli, che belli! Amici di Naturalmente Viaggiando, siamo arrivati al termine di questo percorso del Monte Generoso, con questo magnifico panorama è tutto, a voi in studio, ciao da Stefano Poletti. Ciao! 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 Ciao!